Ci troviamo sempre a Leondoro, a Trucazzano e io sono in compagnia di un gruppo di giovanissimi come potete vedere, di belle speranze. Allora, presentatevi tutti, dai, tu sei? Io sono Bologna Mungari, vengo dal centro ippico Bristanelli, faccio parte della squadra italiana Poni. Ok, squadra italiana Poni. Poi? Io sono Camilla Mainardi, vengo dal centro ippico il Ducale e faccio parte della squadra italiana Poni. Ok, squadra italiana Poni, Mila? Io sono Mila Polizzi, vengo dal centro ippico il Ducale e sono nella squadra Cildreni italiana. E poi Alessandro Orlandi? Sì, vengo dalla Capinera e faccio parte della squadra Poni. Allora, Alessandro, partiamo da lui dato che sei appena sceso da cavallo, giusto? Come è andata? È andata bene, sì, ho sbagliato solo una distanza per un verticale, però è andata bene comunque, il cavallo è saltato bene e va bene così. Come si chiama questo cavallo? Ispanico, uno stallone. Quanti anni ha? Undici anni. E tanto che lavori con lui? No, saranno sei mesi che lavoro con lui, non ce l'ho da molto. Da quanto tempo è che vai a cavallo? Vado a cavallo da quando ho cinque o sei anni con Stefania Buffoni e Fabrizio Ambrosetti e la scuderia della Ghia Andaya. Va bene, che cosa pensi di fare per il futuro? Continuerai, proseguirai? Sì, certamente continuerò sperando di arrivare a livelli alti anche con i cavalli, però adesso mi concentro sui Poni che sono la mia massima punta. Mila, la stessa domanda anche per te, allora quanto tempo è che vai a cavallo? Mila? Beh, di certo andare molto bene con il mio cavallino e poi andare ad alti livelli. Come è andato questo concorso? Qua a Trucazzano non ho fatto la gara. Ah, tu non l'hai fatta? Ok. Il mio cavallo è il riposo che parte oggi per andare in Olanda. Esatto, tu andrai in Olanda, giusto? Sì. Cosa ti aspetti da questa trasferta in Olanda? Spero che andrà molto bene. Prima, seconda? Speriamo, vero, Mila. Allora, anche voi ragazze, Bruna, Bruna della squadra italiana Poni, giusto? Sì. Io vado a cavallo da quando ho quattro anni e mezzo e il mio prossimo obiettivo sarebbero i campionati di Europa Poni e poi ovviamente arrivare a livelli alti con i cavalli. Ecco, ma i tuoi prossimi appuntamenti quali saranno allora? Eh, domani parto per Wirden all'internazionale e poi si vedrà. E poi si vedrà. Allora facciamo anche a te la stessa domanda. Camilla? Allora, io monto a cavallo da quando ho quattro anni e mezzo e in questo weekend sto facendo la gara junior da un metro e tenta con la mia cavalla Quaramai e per ora sono seconda in classifica generale e spero che domani andrà bene. Insomma, complimenti, seconda? Bene, ci tengo a far bene e soprattutto ci tengo a far bene molto anche con la Poni perché sono i miei ultimi anni Poni e voglio godermeli tutti. Beh dai, allora in bocca al lupo a questo gruppo di Giovani Speranze e insomma che dire, continuate ad andare a cavallo e anche a studiare. Eh, va bene? Grazie, ciao dall'Opinione Questra è tutto.